Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video sul canale, nuova live reaction Monza e Inter per questo sabato sera di gennaio Partita tosta, ragazzoni su un campo tosto L'anno scorso partitacce sia in casa che qui a Monza Con il Monza, in casa abbiamo perso qua Abbiamo pareggiato all'ultimo con l'autocolle di Dunfrid Insomma, due partiti da dimenticare Ancora non abbiamo vinto col Monza Quindi dobbiamo assolutamente sfatare il tabù Monza E poi ovviamente anche perché i tre punti in palio sono sempre più importanti nel corso del campionato La Juve gioca martedì, avrà tempo di riposare dopo il turno di Coppa Italia Noi dobbiamo fare assolutamente il nostro Perché poi settimana prossima non abbiamo neanche il campionato della Supercoppa Ciò anche raccomandazioni, iscrivetevi al canale, mi piace, condivisione Dentro sulla partita, forza ragazzi Concentrati oggi, concentrati col Dorona veramente A parte le polemiche, noi non abbiamo giocato benissimo Oggi assolutamente voglio vedere dei segnali Voglio vedere una bella Inter stasera Dai ragazzi, dai cazzo Dai ragazzi, eh Cominciando a Monza Inter Dai, dai, dai cazzo Tira, tira al volo, tira al volo Gol Minchia Vabbè, con il tiro al volo Vabbè, ma cazzo Però l'uomo non è alla porta Sì Vabbè, non può far me Guarda pure quei tu, non ci sono arrivati Figa Oh, minchia, è umano questo Ha andato in rigore al Milan con l'Empoli settimana scorsa, così Figa Oh Ma questo è rigore Oh, al Milan, tu ricordi il rigore che è andato al Milan settimana scorsa? Che è saltato con le mani così, l'ha sfiorato con le dita L'ha sfiorata con il dito quella dell'Empoli settimana scorsa Questo è rigore, figa Questo è calcio di rigore È un rigore di merda, perché per me non è rigore Però per le regole che ci sono, questo è rigore Certo Questo è rigore, non se ne parla Salta con le braccia tutte aperte e la prendi di mano piena C'è il braccio largo di Gagliardini Minchia, guarda, questo è rigore netto Questo è rigore netto Dai, su Dai, su Non scherziamo Dai, venite a lamentarvi Venite a lamentarvi ancora Venite a lamentarvi Favoriti dal VAR Rigore netto, porca puttana Vediamo se c'è qualcuno che ha il coraggio di lamentarsi Anche se tutti i mali Aumenta lo spazio, no? No, ma sì 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 Vai Sì Sì Ciala Sì Andiamo Ciala, andiamo No, oggi, oggi il TikTok ha portato bene Oggi il TikTok ha fatto il TikTok col filtro C'è il nostro rimarcatore Ciala no, vi ho detto magari un rigorino Undici minuti sono bastati ragazzi Undici minuti, il filtro ha portato bene Lanciara Che è infallibile, è infallibile Andiamo ragazzi No, però non è in Italia Cioè 10 minuti di fuoco ha fatto Continuiamo così però Continuiamo così In Italia Veroce per Mkhitaryan Attaccano in 4 contro 3 Mkhitaryan Porta a pala Largo per Di Marco Forte sul zaino Go Sì 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 Mamma mia Siamo partiti fortissimo sta partita Andiamo, andiamo ragazzi Mamma mia Mamma mia Bene così Bene così Bello Bello No Mamma mia Chiudevamo qua Mkhitaryan Che può essere 3-4-0 Per 20 minuti Saltare anche Caldinona Quale il movimento Il primo palo Balla lente No Minchia Minchia Vedi Basta una cazzo Di disattenzione Una disattenzione Basta Una volta Una punizione Del cazzo Figa Non rimparlo così No no Tutto regolare Regolare Bastone Tutto regolare Cioè Reggio Bravo Sfiga Dai Adesso Vabbè Il punto Però Dovevi essere 3-0 Ti intorno Il 2-1 Guarda Cioè Dai Facile Facile Ma bravo Che cura Sì Con la spalla Stare tirata sulla spalla Fattola Sì Dai Il tocco di Caldirola Mi fa Avvicinando l'arbitro Fuori gioco Fuori gioco E' fuori Già Vabbè Che culo Vabbè Vabbè Che culo Vabbè Vuoi vederlo Con le linee Perché non mi sembra Per nulla Fuori gioco Avrà Avrà Già 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 Cioè Se è fuori gioco Abbiamo avuto Di solo I limiti Perché Vabbè Perfine In primo tempo Che finisce Con quest'azione Di Lautaro Che potevamo fare Il terzo Dovamo farlo Anche in altre occasioni Cioè 2-0 Va benissimo Abbiamo giocato fortissimo Il terzo Poi Cerchiamo di fare Il terzo Gole Che non abbiamo fatto Nel primo tempo L'ho vista Cazzo L'ho vista L'ho vista Sta ripartenza Figa 4 contro 2 Grande Ciava Grande Inter Bravo Turam Bello Bello L'ha sussizzato Però Trovo a superare D'Argnane Va giù Calcio di rigore Ci ho pensato un po' Ad Apuano Poi ha indicato Il dischetto Come rigore? Cioè qui Carmene ha deciso Ero la Dietro la caviglia Eh l'ha preso Non mi sembrava Ieri Ricore contro l'Ellas Non direi perché Mi sembrava Tipo quadrato Superi Ricore contro il Monsanto Quando mi ha regolato D'Argnane Mi sembrava Che non esserlo Sto con piedi in mezzo E vedendo così Il rigore Sistemato il pallone Pessina Allora Sommer Fai vedere Che siamo parare i goli 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 Figa Figa Come settimana scorsa Settimana scorsa Nel passiamo Non c'era Per più Parare i goli Sommer Due su due Non in quid Stavo con preme rigore Il rigore Il rigore Il rigore Il rigore Il rigore Ottimo inserimento Movimento di Turano Frattesi Giù Calcio di rigore Vale di Akpa Akpro Soprattesi A difesa La posizione Lo so Vediamo Voglio sempre Vedere le play Si lascia travolgere Da Akpa Forse la tocca Con la gamba Si è toro 18 18 in campionato Mamma mia Lautaro Si è così Grandi ragazzi 4 a 1 Un bel poker E gufia nanna Dai che avete passato Un bel saluto sera Grande toro Grande inter 18 18 Di gol In campionato Per l'Otaro Martinez Per l'applicazione Per quello che riescono a dare In fase di non possesso palla Minchia Facciamo il quinto Minchia Facciamo il quinto E che inter Ragazzi E che marcus Turam Mamma mia Che goleata Ragazzi Bravi 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 Oh per la marotta league 5 a 1 C'è andato due rigori Marotta league Scandalo Scandalo 5 a 1 Due rigori Marotta league Non va bene Mamma mia Come dovete impazzire Quest'anno Sei marcus Sei ragazzi Sì Sì Questa era La partita Che volevamo vedere Dopo La vittoria Però Prestazione brutta Col Verona Oggi veramente Mi sono piaciuti tantissimo E alle polemiche Di chi ci guarda Dal divano Di chi ci gufa Rispondiamo così 5 palloni Gioco spettacolare E grande inter Questa sera Veramente grandi ragazzi Ora Testa alla Supercoppa Trofeo Di no grande importanza Però sicuramente La portare a casa Perché Fa bene Metterlo in bacchetta Incominciamo a mettere In bacchetta Quello E poi pensiamo al resto Grande inter Questa sera Questa sera